Ma è razzismo o è imitazione? Avete letto della polemica Gali contro tale quale show? Vi spiego che cosa è successo. Nel corso dell'ultima puntata dello show Rai tale quale show, appunto scusate la ripetizione, credo sia l'ultima puntata perché ho letto così, in realtà ho seguito le prime edizioni di questo format molto carino, poi ho perso un pochino di interesse. Comunque è stato imitato Gali, il rapper Gali. Per chi non sapesse di cosa si tratta tale quale show, è un programma televisivo dove alcuni personaggi dello spettacolo, quindi attori, showgirl, insomma persone comunque dello spettacolo, vengono chiamate a imitare cantanti, imitare cantanti attuali, cantanti del passato, è capitato anche cantanti non più in vita, quindi in questo caso magari più si tratta di un omaggio. Un'imitazione però basata non tanto sul discorso vocale, dal momento che vi ho appena detto si tratta di attori, showgirl e quindi persone che non hanno l'abilità, non sono imitatori di professione, quindi quelli che veramente sono capaci di imitare il timbro vocale di altri, ma un'imitazione più che altro basata sull'aspetto, quindi sull'aspetto esteriore, in questo aiutati dai costumisti, dai truccatori Rai, e poi sulle movenze, sul modo di stare sul palco, proprio ci sono queste esibizioni nel corso di ogni puntata e poi c'è anche una giuria che li giudica, ovviamente sulla base di quello che hanno fatto e anche, insomma, se sono stati abbastanza simili agli originali imitati. Vengono imitati appunto cantanti di ogni tipo e quando si tratta di imitare cantanti che sono di colore, si utilizza appunto il trucco, i truccatori Rai, oltre a creare delle vere e proprie, diciamo così, maschere, delle protesi, insomma, per magari evidenziare dei tratti caratteristici dei soggetti imitati, se è il caso di un personaggio di colore viene ovviamente anche fatta questa colorazione, proprio perché, ripeto, è un'imitazione soprattutto a livello scenico, a livello di impatto visivo, più che vocale, dal momento che non sono imitatori di professione. Poi qualcuno è capitato nel corso delle varie edizioni. Comunque, nell'ultima puntata è stato imitato Gali, l'attore spagnolo Sergio Muniz doveva fare Gali e quindi gli hanno messo la capigliatura che ha il rapper, l'abbigliamento sempre, insomma, abbastanza sopra le righe particolari e c'è stato fatto anche il lavoro, diciamo, a livello di tono di pelle che è stato appunto scurito per essere quanto più fedele a Gali. Ebbene, apri di cielo, c'è stata polemica perché appunto il rapper si è risentito di questa cosa e attraverso il proprio Instagram, le storie di Instagram, ha sottolineato questo suo essersi irritato. Ha citato il blackface, ha detto che non c'è bisogno di fare blackface in questo momento ancora oggi e che bastava l'autotune e magari un bel look per, in qualche modo, imitarlo, senza bisogno di andare a, diciamo, scurire la pelle di Sergio Muniz. Questo è quanto. Ora, voglio sapere che cosa ne pensate voi qui sotto, magari potete anche documentarvi ulteriormente su questa vicenda, prima poi di commentare qui sotto. Io, che cosa devo dire, ragazzi? Io sono del parere da sempre che ogni volta che un tema importante, e in questo caso il razzismo è un tema importantissimo, ogni volta però che questi temi vengono utilizzati in maniera non inerente, in realtà, al contesto, a quello che sta accadendo, non si fa altro che svilire questo tema. Il razzismo è una cosa seria, è una cosa serissima, è una cosa assurda, oltretutto. È assurda da sempre, nel senso anche se andiamo secoli addietro. Oggi è clamorosamente ancora più assurda e da condannare in ogni sua minima forma. Ma questo da sempre è assurdo, ragazzi, cioè io spesso quando si è parlato di questo argomento l'ho ridotto veramente all'osso come spiegazione il mio parere. Non è possibile, ragazzi, non è umanamente possibile, cerebralmente possibile, giudicare diversamente due persone sul colore della pelle. Cioè se uno è bianco, se uno è nero, sul discorso di questo. Non è possibile. Le persone vanno giudicate per quello che sono dentro, per le persone che sono, quindi buone, cattive, brave persone, persone di merda, bianchi, neri. Non può esistere, non può essere quello a determinare un giudizio negativo verso una persona. È veramente una malattia a tutti gli effetti. Cioè chi è razzista è malato e su questo non c'è ombra di dubbio. Però, però, Gali cita una cosa pesante, come il blackface, che è una pratica, era una pratica anche del secolo scorso, anche prima, che veniva utilizzata, è stata utilizzata per un certo periodo anche in America, dove attori utilizzavano questa strategia, diciamo, del dipingersi di nero per appunto riprodurre le sembianze delle persone di colore, ma lo facevano con accezione negativa. Lo facevano per poi, in qualche modo, nel momento, insomma, della recitazione, fare cose brutte, insomma, dare un'immagine delle persone di colore ultra negative e veniva appunto utilizzato il trucco e veniva scurita la faccia. Da qui appunto blackface, no, faccia nera. Gali cita una cosa pesantissima, come il blackface, in un contesto sbagliatissimo, perché questa è una trasmissione, a parte che è una trasmissione internazionale, cioè nel senso che c'è anche in altri paesi, non so l'origine esatta qual è, comunque i vari paesi poi ne hanno acquistato, diciamo, i diritti, la possibilità di riprodurla nel proprio paese e anche in Italia esiste questo show. Come ho detto nell'intro, è una trasmissione che non si basa sull'imitazione vocale. Le persone, i concorrenti, non vanno lì e viene giudicato quanto è più vicino il loro timbro rispetto a quello dell'originale. In questo caso non è stato giudicato Sergio Muniz se ha la voce uguale a Gali, ma l'esibizione. E l'esibizione è fatta di tanti piccoli dettagli. Anzi, questa è una trasmissione che a me intrigava molto nelle prime edizioni, la seguivo anche per la dovizia di particolari, nel senso che se viene riprodotto un artista in un determinato momento, in una determinata sua esibizione, viene fatto anche un lavoro a livello di costumi perfetto, preciso, e poi c'è il parallelismo con l'originale. È ovvio che una trasmissione che si basa su questo tipo di imitazione deve anche riprodurre il colore della pelle dell'imitato, cioè è una cosa veramente logica. Gali non ha parlato di razzismo, attenzione, ha citato il blackface e non ha detto però sono stati razzisti nei miei confronti perché hanno fatto punto scuro. No, ha parlato di ignoranza, cioè ha detto il problema è che evidentemente chi c'è dietro questo programma non sa nemmeno che cos'è il blackface, e quindi cade in maniera ignorante in questo errore. Il problema è che secondo me è veramente qualcosa basato sul nulla. Ovviamente ragazzi ci sono state tante polemiche intorno a Gali, molti gli hanno detto ma ringrazia che sei stato imitato, significa che sei qualcuno, effettivamente se vieni imitato sei qualcuno, anche quando sei oggetto di parodie, che tra l'altro non è questo il caso perché sono delle imitazioni realistiche, non sono nemmeno delle parodie. Però ripeto, siccome si basa tutto sull'aspetto visivo dei vari personaggi, sarebbe assurdo riprodurre personaggi di colore, come in passato è successo quando sono stati imitati, che ne so, Barry White, Tina Turner e tanti altri, senza però andare a fare colorazione. Quindi lasciare comunque l'attore, il personaggio che lo sta interpretando, bianco. Sarebbe stato qualcosa non solo di non reale e non utile ai fini della trasmissione stessa, ma a quel punto veramente si poteva parlare in maniera offensiva. Cioè dicendo, scusa ma per esempio fai l'imitazione appunto di un Barry White, però magari lo fai bianco. Perché? Questo è perché devi in qualche modo negare o sorvolare sul colore diverso della pelle. Cioè in questo caso ci sarebbero state polemiche alla rovescia. Insomma una caduta secondo me di stile, ma più che altro un buttare via un tema così importante come il razzismo per un qualcosa che non esiste. Quindi questo. Ditemi che cosa ne pensate voi qui sotto. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao. Ciao.